E' lì che vi è il vero problema di trasparenza, è lì che vi è il vero problema di democrazia all'interno delle nostre istituzioni e forse è lì che si nasconde la vera ombra che può, nel momento in cui viene portata alla luce, dare anche più valore alle nostre istituzioni, a quelli che sono i partiti riconosciuti dall'articolo 49 della Costituzione e a quello che in questo testo forse si nasconde dietro la parola di democrazia e trasparenza legata ai partiti politici. Grazie Presidente D'Ambrosio. Onorevole Misuraca. Onorevole Misuraca, se accende il microfono partecipiamo anche noi. Grazie. Ero convinto di avere una voce talmente assorbente da non avere bisogno del microfono, Presidente, grazie comunque della segnalazione. Dicevo, la crisi profonda nel rapporto tra società e politica e l'antipartitismo diffuso che da decenni attraversano la società italiana, crisi che ormai investe tutte le democrazie moderne in conseguenza delle profonde trasformazioni epocali che stiamo vivendo, non fa certamente venire meno l'indispensabilità del ruolo dei partiti nei sistemi liberal-democratici. Il partito insesso come parte deve essere consapevole della propria parzialità. Parte tra le parti, nessuna delle quali è sente da limiti e sa di dover competere in un terreno complesso e difficile perché la politica è competizione e conflitto tra le proposte politiche diverse, ma a condizione naturalmente che le parti riconoscono la piena legittimità delle altre proposte in campo, comprensibilmente tutti i parimenti parziali. Altrimenti, con la demonizzazione degli avversari considerato come nemici, non solo si è fuori da una concezione liberal-democratica della società, ma si corre il rischio di sfociare nel terreno del totalitarismo. Del resto, sino ad ora, modelli alternativi e sostitutivi dei partiti non sono emersi o si sono rivelati afflitti dagli stessi fenomeni degenerativi dei partiti tradizionali. Ma se il ruolo dei partiti rimane essenziale per la democrazia politica, occorre anche dire che essi sono chiamati ad una difficilissima sfida al rinnovamento e di rigenerazione per superare le evidenti difficoltà nell'assolvere le loro funzioni principali, quella cioè del raccordo tra società e istituzioni, della selezione delle classi dirigenti, dell'elaborazione di strategie. Certamente è del tutto superata l'epoca dei partiti di massa e di integrazione sociale della cosiddetta Prima Repubblica, di sicuro non essente da difetti, ma la lunga e tumultuosa transizione da quella democrazia dei partiti alla democrazia degli elettori e delle leadership che caratterizza il nostro tempo, con i mutamenti dei meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica, determinati dalle nuove tecnologie e con la crescente personalizzazione della politica, esigono, a nostro avviso, risposte su diversi piani. Tra questi vi è il tema delle riforme istituzionali e quella è la disciplina giuridica dei partiti spessi. Il rafforzamento del sistema istituzionale è una condizione necessaria, anche se certamente non sufficiente, per la rigenerazione dei sistemi dei partiti. In particolare, occorre che le riforme istituzionali mirino all'affermazione del principio di irresponsabilità politica, il grande assente nella storia repubblicana, come possibile punto di sintesi di mediazione alta tra il valore della governabilità e quello della partecipazione, il principio di irresponsabilità dei cittadini elettori che decidono loro chi deve governare, senza delegare questo potere ad opache trattative post-voto, e di chi, invece, vincendo le elezioni, si aggiudica il diritto o dovere di governare con la connessa responsabilità di corrispondere e di rispondere del proprio operato senza poter invocare alibi di sorta. Le riforme istituzionali che il Parlamento ha approvato vanno decisamente in questa direzione. Rafforzano l'Esecutivo ed il Primo Ministro nell'ambito di un complesso rafforzamento della forma di governo parlamentare, come da tempo avvenuto nelle altre democrazie occidentali. Esaminando più direttamente il tema dei partiti, occorre chiarire quale debba essere oggi la loro funzione principale. Il partito, a nostro avviso, deve essere innanzitutto un contenitore per la selezione e la investitura del leader premier, che si caratterizza soprattutto per il programma di governo ed anche per una visione del presente e del futuro del Paese. Partito che, a nostro avviso, ripeto, deve contribuire all'elaborazione e all'attuazione di quel programma e che ovviamente, così come ha investito il leader, può anche revocare quell'investitura. Insomma, un leader che ha una funzione essenziale di guida, ma non è un uomo solo al comando. Con la riforma del bicameralismo e della nuova legge elettorale, i partiti e le forze politiche diventano soggetti decisivi del sistema elettorale e costituzionale. Da qui nasce, in particolare, l'esigenza di proseguire lungo la strada dell'attuazione dell'articolo 49, cimentandosi nella non facile, ma certamente avvincente impresa, di coniugare istituti di trasparenza e garanzia nella vita interna dei partiti con la salvaguardia di una concezione liberale dei partiti stessi. Se i partiti, appunto, sono il luogo e il contenitore dove prende forma e si realizza la personalizzazione e la leadership, occorre però porre grande attenzione alla loro disciplina giuridica. Occorre cioè che l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, dei movimenti o dei gruppi politici organizzati siano improntati al principio della trasparenza e del metodo democratico, come giustamente recita l'articolo 2 del testo al nostro esame. Per quanto riguarda i requisiti minimi di trasparenza, al fine dell'ammissione delle liste alle elezioni politiche, c'è una questione di fondo su cui occorre, a nostro avviso, porre grande attenzione. Che ci sia o ci si definisca partito oppure movimento, associazione, comitato o semplice gruppo di cittadini, nel momento in cui si presenta una lista. Ci riferiamo alle elezioni del Parlamento. In questo momento si svolge comunque una funzione pubblicistica e costituzionale, perché si concorre ad esprimere la rappresentanza parlamentare, rappresentanza che in caso di vittoria al primo o al secondo turno, in base all'Italicum, raggiunge i 346, 24 seggi oltre la maggioranza assoluta, ed esprime pertanto il Presidente del Consiglio. Attenzione! Richiedere requisiti minimi di trasparenza non vuol dire però, a nostro avviso, in alcun modo imporre delle finalità a chi presenta una lista nell'adozione di un determinato modello organizzativo. Pertanto, prevedere dei requisiti minimi di trasparenza, così come abbiamo posto i requisiti minimi di trasparenza, ai fini dell'ammissibilità di una lista è non solo opportuno, ma anche necessario e pienamente legittimo. E dal riguardo, il test approvato dalla Commissione Affari Costituzionali compie certamente importanti e significativi passi avanti, grazie alle modifiche apportate al testo base. Invece, sulla forma con la quale richiedere questi requisiti minimi di trasparenza, il test approvato dalla Commissione è, a nostro avviso, ancora modificabile, in quanto sarebbe stata, sempre a nostro avviso, necessaria la forma più impegnativa dello Statuto, anziché quella di una semplice dichiarazione che può facilmente essere elusa o modificata. Nel testo dell'articolo 2 ai commi 4 e 5 si fa giustamente riferimento per partiti, movimenti e gruppi politici organizzati privi di Statuto all'accordo associativo. Ma allora perché non fare riferimento all'accordo associativo anche agli articoli 3, 4 e 5? Valer dire, perché non prevedere che l'accordo associativo debba essere depositato, sempre ispirato al principio della trasparenza, anch'esso presso il Ministero dell'Interno e pubblicato sul sito internet dello stesso Ministero che su quello del medesimo partito, movimento gruppo politico organizzato, insieme alla dichiarazione di trasparenza. Perché per l'accordo associativo non deve valere il principio della trasparenza? Riteniamo che questo aspetto possa essere ancora migliorabile nel testo base. Un'altra questione per la quale riteniamo debba essere modificato il testo base, siamo stati assolutamente decisi anche durante i lavori della Commissione, è la mancata specificazione. Il nostro avviso è indispensabile per l'applicazione dell'Italicum, basato sul premio alla lista, che più partiti, movimenti o gruppi politici possono presentarsi in forma aggregata, mediante la presentazione di un'unica lista comune di candidati, specificando appunto che l'obbligo di depositare lo statuto, ovvero la dichiarazione di trasparenza, riguardi ciascuno dei partiti, movimenti o gruppi politici. Una simile specificazione, già esistente nella legge 96 del 2012, all'articolo 9,2, per quanto riguarda l'obbligo di avvalersi una società di revisione del bilancio, anche nel decreto legge 149 del 2013, per quanto riguarda l'accesso ai benefici previsti da tale decreto. Ma allora perché non inserirla? Coerentemente e esplicitamente anche all'articolo 3 della legge al nostro esame. Per noi si tratta, lo abbiamo detto in Commissione, lo ripetiamo qui in Aula, di una questione politica di grande e fondamentale valore. Infine c'è la questione ancora da affrontare della disciplina delle elezioni primarie, che questa proposta di legge non affronta, affatto in quanto il tema è oggetto, come è noto, di esame nell'altro ramo del Parlamento, ma ci sembra, senza un significativo e convinto impegno, a portarla effettivamente a compimento. Invece, sulla questione della selezione trasparente delle candidature, noi riteniamo essenziale, oltre a quanto previsto dalle disposizioni riguardanti il contenuto minimo degli statuti, introdurre una disciplina legislativa delle elezioni primarie, dove il partito, movimento, gruppo politico, scelga di ricorrere a questo strumento di partecipazione democratica. Infatti, gli esperimenti qui messi in atto, se da un lato hanno evidenziato il contributo potenziale delle primarie alla vita democratica, dall'altro hanno messo in luce i rischi e le controindicazioni che tale sistema può presentare, se interamente demandato alla sola autorregolamentazione e allo spantoneismo fino a trasformarsi in un boomerang per chi la pratica. La disciplina legislativa delle elezioni primarie è, a nostro avviso, fondamentale per le cariche monocratiche esecutive, sindaco, sindaco metropolitano, seletto a sovraggio universale diretto, presidente della Giunta regionale, ma anche la persona indicata come capo della forza politica in base all'Italicum, in sostanza il candidato alla Presidenza del Consiglio, consentendo le primarie anche per la scelta del leader premier. Le ragioni che ho già detto all'inizio del mio intervento indicano le funzioni principali che i partiti politici sono oggi chiamati a svolgere, con particolare riguardo al ruolo della leadership. Nella legge presentata a mia firma abbiamo individuato e offerto al dibattito soluzioni originali per assicurare il corretto e rigoroso svolgimento delle elezioni primarie, in particolare la necessità per esercitare il diritto di voto di esibire un documento di identità valido e la tessera elettorale sulla quale devono essere impressi a cura della sezione elettorale la data e il bollo della sezione stessa, nonché la necessità che i regolamenti di attuazione delle primarie assicurino il diritto alla consultazione del registo degli iscritti e dei sostenitori, nonché di quello dei votanti almeno da parte di tutti i candidati alle elezioni primarie. Per queste ragioni presenteremo alcuni emendamenti conseguenti alle argomentazioni appena svolte e uno specifico emendamento anche per introdurre la disciplina delle elezioni primarie, emendamento al quale potremo rinunciare solo a fronte di un serio e effettivo impegno a discutere e disciplinare questo tema che, ripeto, è a nostro avviso fondamentale. In conclusione, onorevoli colleghi, esprimiamo una considerazione favorevole rispetto agli obiettivi che il testo si propone e dallo spirito che lo sostiene ed un personale apprezzamento al sapiente lavoro svolto dal relatore Righetti. Crediamo nella dialettica parlamentare e siamo convinti che, interpretandole correttamente, si possa sempre procedere al miglioramento di misure sulle quali abbiamo chiari convincimenti insieme a dei rilievi critici che, con pacatezza e consapevole convinzione, abbiamo sollevato. Grazie. La ringrazio, onorevole Dattorre. Grazie, Presidente. Io esporrò qualche rapida considerazione per dire perché, a nostro giudizio, questa legge, la cui discussione era partita anche con una certa solennità ed enfasi con grandi aspettative che erano state suscitate a partire dal fatto che una delle prime proposte era stata firmata dal Vice-Segretario del Partito di Maggioranza Relativo. Ebbene, sul perché queste aspettative siano destinate, sulla base di questo testo, ad andare deluse. Devo dire che questo non mi stupisce, farò poi una considerazione finale su questo. non si...